Ognuno di noi è chiamato a essere luce e sale nel proprio ambiente di vita quotidiana, perseverando nel compito di rigenerare la realtà umana nello spirito del Vangelo e nella prospettiva del Regno di Dio. Prima della preghiera dell'Angelus, Papa Francesco si è soffermato sul cosiddetto discorso della montagna, precisamente sulle parole di Gesù che descrivono la missione dei Suoi discepoli nel mondo. Il nostro comportamento, infatti, nel bene e nel male, lascia un segno negli altri e il Figlio di Dio ci invita a essere un riflesso della sua luce attraverso la testimonianza delle opere buone. Luce, ma anche sale, ha precisato il Pontefice. La missione dei cristiani nella società è quella di dare sapore alla vita con la fede e l'amore di Cristo che ci ha donato e nello stesso tempo di tenere lontani i germi inquinanti dell'egoismo, dell'invidia, della maledicenza e così via. Questi germi rovinano il tessuto delle nostre comunità, che devono invece risplendere come luoghi di accoglienza, di solidarietà, di riconciliazione. Per adempiere a questa missione bisogna che noi stessi, per primi, siamo liberati della degenerazione corruttrice degli influssi mondani, contrari a Cristo e al Vangelo. E questa purificazione non finisce mai. Va fatta continuamente. Va fatta tutti i giorni.